Sanremo perché principalmente perché a casa mia esiste una un legame con Sanremo grazie a mio padre come bene dicevo prima e ho scoperto tanta mia madre mi ha trasmesso il flamenco infatti quando avevo otto nove anni ho iniziato cantando il flamenco no che lo porto nella sangue che è un po la mia personalità e mio padre dall'altra parte era sempre stata una persona che ascolta tanta musica diversa mi ha trasmesso questa questo affetto questo amore per la musica italiana e mi ricordo che a casa mia si è sempre sentito tanti artisti ricchi e poveri Mattia Bazzare, Mina e tanti tanti artisti quindi sono cresciuta anche quella musica italiana e Sanremo lo seguo da un bel po' di anni a volte streaming a volte ascoltando le canzoni che sono uscite dal festival e a dire la verità se devo essere onesta sono un paio di anni che ci provo che mi piacerebbe partecipare al festival quindi per fortuna quest'anno è stata scelta una nostra canzone e speriamo che piaccia speriamo far emozionare alle persone a casa guarda con tanta emozione se ti devo spiegare con parole non saprei non saprei come farlo perché ne ho dentro un mix di emozioni così grandi che non saprei come spiegare come mi sento a volte super carica a volte super stressata per tanto tante cose che si aggiungono tutti i giorni e lavorando molto 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 non vedevo l'ora di essere su quel palco cantando la canzone tutti i giorni praticando visualizzando il momento emozionata la gran paura che ho è forse di emozionarmi prima di cantare perché mi è successo anche nelle prove quindi potete immaginare che per me questa è una cosa molto importante mi sento felice direi felice porto una c'è il festival della canzone italiana davvero che lo faccio con tutto il cuore del mondo e cerco di fare omaggio a questa musica che che adoro e che amo da sempre questa musica che per me a casa ha significato tanto che mi ha in qualche modo fatto essere o diventare la persona o l'artista che sono adesso quindi mi ha dato tanto lo faccio sempre dal rispetto più profondo dall'umiltà più profonda e dall'ammirazione più profonda davvero che noi in spagna seguiamo pure questo festival non solo se segue qui in italia è un festival molto seguito all'estero perché noi stranieri amiamo la musica italiana non solo se segue qui inizia